Nintendo ci ha sorpreso con l'annuncio del remake di Super Mario RPG, un iconico gioco di ruolo dell'era SNES. Visto per la prima volta nel 1996, Super Mario RPG ha rappresentato un punto di svolta per la serie, introducendo per la prima volta elementi di gioco di ruolo nel mondo di Mario. E ora sembra che il gioco farà un ritorno epico su Nintendo Switch quest'autunno. L'annuncio di questo remake è stato un vero colpo al cuore per i fan di lunga data come me. Super Mario RPG ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Questo era il gioco che mostrava cosa poteva fare il Super NES. Ed era l'ultimo titolo sviluppato da Square per Nintendo prima della grande rottura che ha spostato il franchise come Final Fantasy su altre piattaforme. E ora sarà finalmente disponibile per tutti noi europei. Il titolo completo, Super Mario RPG, leggenda delle sette stelle, arriverà su Switch il 17 novembre 2023, completamente ridisegnato e tradotto in italiano. La trama di Super Mario RPG è un incantevole racconto che coinvolge un cast di personaggi pittoreschi, in una folle ricerca in tutto il regno dei funghi e oltre. Inizia con il nostro eroe, Mario, che corre a salvare la principessa Peach, da Bowser. Ma la gang di Smitty, un tiranno dell'altra dimensione, attacca e tutto cambia. Il gameplay di Super Mario RPG è un mix perfetto di azione in tempo reale e combattimenti a turni. I combattimenti non sono casuali e i nemici vagano per lo scenario. Solo entrando in contatto con loro si inizia la battaglia. E il trailer ha mostrato alcuni momenti indimenticabili dell'avventura originale, in una veste grafica completamente rinnovata, che ha immediatamente catturato la mia attenzione. Sembra che Nintendo abbia mantenuto l'attenzione ai dettagli dell'originale, con personaggi e ambientazioni vividi e dettagliate. L'annuncio del remake di Super Mario RPG è una notizia emozionante per i fan di vecchia data come me e per le nuove generazioni giocatori, che avranno la possibilità di scoprire questo classico. Non vedo l'ora di vedere come Nintendo ha modernizzato il gameplay e di poter giocare a questo gioco iconico su Switch. Non mancherò di tenervi aggiornati su tutte le novità riguardanti Super Mario RPG. Rimanete sintonizzati. Ciao e al prossimo video. Ciao.